Scopri l'epica storia di Zainep, una donna che da pedina diventa regina nel gioco di vendetta e passione. Zainep, inizialmente prigioniera di un emir senza cuore, si trasforma in un abile stratega di vendetta contro il suo ex amante. Ma attenzione, il fuoco della vendetta può bruciare chiunque si avvicini troppo. Ozan è l'innocente cuore spezzato di questa storia. In un mondo dominato da intrighi e corruzione, ha amato Zainep con tutto il suo cuore, diventando suo malgrado l'ingenuo in una partita pericolosa. Intrappolato in un omicidio perfidamente architettato dal suo stesso cognato, Ozan diventa il burattino nelle mani di Zainep. Ma Zainep non si ferma qui. Sposa Ozan con l'intento di distruggerlo, tradendolo e consumandolo emotivamente, fino a desiderare la sua morte. E la fine di Ozan è veramente tragica. Ma attenzione, non lasciarti ingannare dalle voci e dalle false narrazioni che circolano. Due versioni contrastanti sulla sua morte svelano il mistero dietro questa storia avvincente. Scopriamo insieme il mistero dietro la tragica fine di Ozan, un enigma avvolto tra menzogne e tradimenti. Una versione suggerisce che Ozan, distrutto dal tradimento di Zainep con il cognato Emir, abbia messo fine alla sua vita. Ma attenzione, è solo una menzogna. Un'altra versione, invece, suggerisce che Zainep possa essere la responsabile, mascherando il delitto come un suicidio. Ma la verità è un segreto che vi lascerà senza parole. Prima di svelare il mistero, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento. Preparatevi a seguire ghili avvincenti sviluppi di questa storia, con spoiler che vi terranno col fiato sospeso. E ora la cruda verità su Ozan, la figura più tragica di questa narrazione. Ozan, nato sotto una cattiva stella, afflitto da malattie e utilizzato da Emir come strumento di ricatto per la sorella Nian, ha vissuto una vita segnata da sofferenza e ingiustizia. Ha amato Zainep, la donna sbagliata, che lo ha visto solo come uno strumento per la sua vendetta. Ha subito un duplice tradimento, prima da Zainep e poi dal cognato Emir, eventi che hanno segnato il suo destino in modo drammatico. La sua vita, tormentata e ingombrante per i piani altrui, ha attirato l'attenzione di qualcuno deciso ad eliminarlo. Ma chi è il colpevole di questo atroce delitto? Ritornando alle vicende precedenti, Zainep aveva sposato Salì per dispetto, nonostante l'amore sincero e ingenuo di quest'ultimo. Una scelta che ha portato a conseguenze tragiche per Ozan. Nonostante la sua vendetta giurata contro Emir, la passione e l'amore irresistibile per lui porteranno Zainep a ripensamenti inaspettati. Emir, sicuro di sé e delle proprie mosse, non teme le minacce di Zainep. Una sera, in assenza di Ozan, Emir fa il suo prossimo passo e Zainep, incapace di resistere, cede alle sue avance. Il rischio di essere scoperti da Danian è altissimo, ma la passione trionfa. Dopo quella notte intensa, Zainep scopre di essere incinta. Ma chi è il padre? Ozan o Emir? Zainep decide di far credere a tutti che il bambino sia di Ozan, ma una tragica perdita la colpisce, facendola perdere il bambino. Ma la vita riserva un'altra sorpresa per Zainep. Rimane incinta una seconda volta, e questa volta è certa che il padre sia Emir. Questa rivelazione crea un abisso tra Zainep e Ozan, che già devastato dall'accusa di omicidio e dal tradimento della moglie con il cognato, si trova in prigione. Intrighi, colpi di scena e segreti avvolgono questa storia avvincente. Zainep, divisa tra amore e vendetta, e Ozan, imprigionato dalle circostanze e dal tradimento, sono al centro di un vortice di emozioni che cambierà le loro vite per sempre. Un attacco improvviso porta Ozan in ospedale, trasformandolo in un bersaglio facile per chiunque voglia eliminarlo per sempre. Ma chi è così determinato a volerlo fuori dai giochi? Molti sospetteranno subito di Emir, ma non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Emir, pur essendo un antagonista, non è l'artefice della tragica fine di Ozan. Nella complessa trama di questa storia, Emir non è né il più astuto né il più mostruoso. All'inizio, la morte di Ozan viene presentata come un suicidio. Il giovane viene trovato impiccato con un lenzuolo nella sua stanza d'ospedale, ma questa spiegazione non convince Nian, la sorella di Ozan. Superato lo shock emotivo della perdita del fratello, inizia a dubitare della versione ufficiale. Anche Kemal, sospettoso fin dall'inizio, nutre dubbi sulla verità. Grazie alle sue indagini, scatta alcune foto della scena del presunto suicidio e le mostra a un ex agente di polizia. Quest'ultimo, senza esitazioni, dichiara che Ozan non si è suicidato. La sedia su cui si presume Ozan sia salito è troppo piccola per essere stata usata in quel modo. La morte di Ozan è solo la punta dell'iceberg di un intreccio di eventi, che svelerà verità sorprendenti. Continuate a seguirci per scoprire chi è veramente dietro alla tragica fine di Ozan e quali altri segreti si nascondono dietro questa storia avvincente. Ebbene, cosa è veramente accaduto nella vita tormentata di Ozan? Molti di voi potrebbero pensare che Zainep sia stata l'artefice della sua scomparsa. E, effettivamente, attraverso alcuni colpi di scena nelle puntate future, vedremo Zainep confessare l'omicidio di Ozan, scatenando l'ira di Nian e Vildan. Ma c'è un twist nella storia! Nonostante Zainep sia convinta di essere la responsabile, una sorprendente rivelazione svelerà che non è così. Come può essere possibile? Entriamo nel cuore pulsante della storia per scoprire la verità nascosta. Un salto temporale rivela il vero destino di Ozan. Dopo la sua crisi si risveglia in ospedale e incontra Gurkan, un personaggio misterioso che indossa un camice da medico. Gurkan si avvicina a Ozan chiedendogli come si senta. Ozan confessa di avere un forte mal di testa e bruciore alla gola. Gurkan, con una calma apparente, lo rassicura, spiegando che sono semplici disagi post-estubazione. Poi, con una promessa inquietante, aggiunge. Ora ti darò qualcosa che ti farà stare meglio. Avrà effetto in circa 30 minuti. Chiudi gli occhi. Tra poco sarà tutto finito, promette Gurkan. Un momento cruciale che cambierà il corso della storia. Chi è veramente Gurkan e quale oscuro segreto nasconde dietro quel camice da medico? E così, poco dopo aver somministrato la sostanza a Ozan, Gurkan riceve una telefonata da Asso, la mente dietro l'omicidio, ansiosa di sapere l'esito. Con un tono freddo e diretto, Gurkan conferma. Missione compiuta. Ecco la svolta. Gurkan è l'esecutore materiale di un delitto architettato da Asso. Ma allora, perché Zainep era così convinta di essere stata lei l'assassina di Ozan? La trama si infittisce e gli spettatori si ritrovano con mille domande. Seguiamo Zainep in un flashback cruciale. Dopo aver somministrato il veleno a Ozan, lei si reca in ospedale per vederlo. Riesce a eludere la sorveglianza della polizia e raggiunge la stanza di Ozan. In quel momento, con le ultime forze, Ozan la accusa, facendola sentire colpevole e responsabile della sua morte. Mi hai tradito con mio cognato. Sei la donna peggiore del mondo. Desidero solo uscire di qui e rivelare tutta la verità. Sono le parole amare di Ozan che tormentano Zainep. La confusione tra realtà e convinzione di Zainep aggiunge un ulteriore strato di complessità alla trama. Chi è veramente colpevole? Cosa spinge Zainep a sentirsi così in colpa? E quale sarà il destino di Asu e Gurkan? Con misteri che si svelano lentamente e colpi di scena inaspettati, questa storia avvincente tiene ghigli spettatori sul filo del rasoio. Le parole di Ozan, affilate come lame, hanno trapassato il cuore di Zainep. La rabbia di Ozan, alimentata dalle foto che testimoniano la sua presunta infedeltà e dalla paura di uno scandalo imminente, ha spinto Zainep oltre il limite. In un momento di disperazione e follia, Zainep afferra un cuscino e lo preme sul volto di Ozan, ignara che il veleno aveva già avviato il suo tragico lavoro. Le parole amare di Ozan? Mi hai tradito con mio cognato. Sei la donna peggiore del mondo. Sono le sue ultime. pronunciate poco prima di ispirare. Zainep, sentendosi colpevole e disperata, sembra aver ricevuto l'aiuto di Tariq, suo fratello, per inscenare il suicidio di Ozan. In questa realtà distorta, avvolta da un velo oscuro di menzogne, si compie un atto che segna per sempre i loro destini. Il sipario cala su un intreccio di segreti, falsità e colpe inconfessabili, condannandoli a vivere con il peso di una colpa incommensurabile. Una storia avvolta nell'ombra, dove la verità si confonde con la menzogna e il gioco di potere e vendetta cambia per sempre le vite dei protagonisti. Non perdete i prossimi episodi per scoprire come si sviluppa questo intricato intreccio di passioni e segreti.